Il Cardinale Leonardo Sandri, prefetto della Congregazione delle Chiese Orientali, è in visita in Terra Santa. Nel pomeriggio del giorno 25 ha fatto l'ingresso solenne nella Basilica del Santo Sepolcro. Sotto una forte pioggia il corteo è partito dalla sede del Patriarcato Latino di Gerusalemme. Il Cardinale, accompagnato dai Francescani, dal Patriarca, dal Nunzio Apostolico Monsignor Antonio Franco, dalle autorità ecclesiastiche e dalle diverse comunità religiose, ha attraversato le vie di Gerusalemme. L'ingresso solenne è una tradizione secolare. Le porte della Basilica rimanevano chiuse, ma venivano aperte in modo solenne all'arrivo dei pellegrini. All'entrata il Cardinale è stato ricevuto dal Guardiano del Santo Sepolcro. E dai rappresentanti delle comunità religiose e delle Chiese Orientali. Il Cardinale è stato accolto nel luogo della Pietra dell'Unzione, dal custode di Terra Santa, padre Pier Battista Pizzaballa, che gli ha dato il benvenuto dicendo Qui Gesù è stato crocifisso, qui è risorto. Vana sarebbe la nostra fede se non si inchinasse e si esaltasse nella risurrezione del nostro Signore. Arrogante sarebbe se non si esaltasse e si inchinasse davanti alla sua crocifissione. Qui questi misteri si sono compiuti. Qui è la nostra casa. Qui è anche la sua casa. Il Vangelo secondo Matteo è stato proclamato in loco. L'angelo dice alle donne Non abbiate paura, so che cercate Gesù, il Crucifisso. Non è qui, è risorto. Dopo la lettura del Vangelo anche il Patriarca latino di Gerusalemme, Monsignor Michel Sabbat, ha accolto il Cardinale. La celebrazione si è conclusa con il saluto del Cardinale Leonardo Sandri, che è poi ritornato alla sede del Patriarcato per ricevere i saluti delle comunità. Il Vangelo 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 Il Vangelo